Exdoor Actics! Oggi siamo qui con un nostro nuovo arrivo, una bellissima Jeep Compass Flanin. Sul frontale possiamo trovare subito dei comodissimi sensori di parcheggio per le nostre manovre. Spostandoci sulla parte laterale troviamo dei bellissimi cerchi in lega da 18 pollici. Proseguendo sulla fiancata troviamo stecchietti a contrasto nero, vetri posteriori oscurati e barrelle. Sul posteriore invece ritroviamo i nostri comodi sensori di parcheggio più la retrocamera. Il bagagliaio è spaziosissimo, troviamo a bordo i cavi per la ricarica. Passando agli interni troviamo delle comodissime sedute in tessuto misto pelle con areazione davanti e presa USB. Arrivando alla parte anteriore scopriamo il cambio che naturalmente è automatico, schermo touch per la gestione dell'infotainment, subito sotto il climatizzatore automatico, tra i due sodili un comodissimo bracciolo porta oggetti, il volante in pelle multifunzione con i vari comandi per la gestione delle chiamate del bluetooth e del cruise control. Dietro troviamo il sensore luci e sensore pioggia. L'auto è stata immatricolata nel 2022 ed ha percorso solamente 28.000 km.